non sto succedendo niente non esce il latte no non esce mamma lo vedo io lo sto schiacciando lo sto sentendo non esce certo che esce adesso esce non deve uscire dalla bocca no però non vedo neanche che entra no ce n'è pochissimo no ce n'è pochissimo no non scende vedo le bollicine salire no infatti se continua a leccare vuol dire che ando giù lo stanno andando giù wow wow Grazie.